Grazie a un accordo con il Laboratorio di Conica Minolta facciamo alcune esperimentali esperienze con molti robot. In particolare, stiamo applicando la tecnologia di Conica Minolta per il robot R1 sviluppato dall'Istituto dell'Istituto dell'Istituto dell'Italia. Buongiorno, il sistema mi suggerisce planare il tuo prossimo scan di Abdomenolta per domani a 10.00. È ok per te? Ok, è ok. Una delle problematiche più importanti e ancora open per operare robot in un scenario reale è la capacità di percepire l'environmento in modo da capire cosa sta succedendo e agire e reagire appropiato. Conica Minolta Laps Europe ha fatto una ricerca in questa direzione sviluppando soluzioni teoretiche e pratiche per l'attività, 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 l'attività e l'attività, l'attività, l'attività e l'attività, l'attività e l'attività, o a non-demand service se la potenza computazionale non è sufficiente. Buongiorno, Mr Rossi. Buongiorno. I'm here to remind you to take your therapy. May I bring you there? Yes, thanks. Good, please follow me. It looks like you have your remote in the hand. It would be better to leave it here, or I can take it for you. Yes. Do you want to give it to me? Yes, thanks. Grasping and manipulating objects is another fundamental, yet challenging task in robotics. We all need to guarantee you are assisting people. for this, the Istituto Italiano di Tecnologia is making available to Konica Minolta Laboratory Europe all its experience and technological know-how used to build the R1 Personal Humanoid. Please, this way. Another very important step for robots in hospitals is to improve the navigation and obstacle avoidance skills. The complex environment, such as the hospital, with frequent changes crowded by people and objects with rapid movements, makes navigation a real challenge for a wider application of robotics devices. Both running, Konica Minolta and HiIT are facing these challenges, combining the advanced autonomous navigation capabilities of R1 robot with multi-sensory fusion provided by Konica Minolta platforms, such as cameras installed in the corridors. of the world. Good morning, Dr. Greco. Here's Mr. Rossi to take his ultrasound check. Gertrude.